Grazie a tutti. Beh certo dopo 25 anni di attività di gestione e su questo proprio avverterà il mio intervento non tanto nella descrizione di quello che proteggiamo perché penso che sia ben conosciuto sia chi ha visitato la riserva in snorkeling o con le bombole in pratica. E' proprio il ruolo che possono avere le aree protette come quelle che abbiamo visto appunto le trezze o anche il ledosso di Santa Croce nello sviluppo di una cultura del mare che a livello triestino si sta cercando. Si sta cercando a diversi livelli come promessa di sviluppo del golfo di Trieste come supporto appunto per il turismo perché Trieste e mare sono appunto è un connubio che chiunque viene ci riconosce. E Miramare sta cercando proprio di incentivare come uno stakeholder, come un portatore di interesse di queste attività per uno sviluppo futuro di turismo e vedremo quali sono queste idee che abbiamo in mente. Anche perché non dimentichiamo che le aree protette non è che sono solamente, c'è perlomeno quella di Miramare non è solamente che una zona di boe e di pesci protetti ma c'è anche una specie molto importante quella umana è circa una ventina di persone che lavorano e quindi anche come dire è un motivo occupazionale che può essere inserito a tutti gli effetti su quella che si chiama Blue O Green Economy cosa che si è discusso tra l'altro anche ieri sull'area di ricerca per cui penso che possiamo essere uno dei poli più interessanti e attivi proprio nello sviluppo del mare per il turismo sotto un profilo culturale per Trieste. Quindi le invito a salire in catena, ribadiamo comunque che non ci sono astici. Ecco cominciamo da questa foto per dire che il mare a Trieste molte volte è uno e tutt'uno. In caso di alte maree o di libecciate questa è una vecchia foto con il molo audace sotto il livello del mare. Questo è il profilo del tipicamente Trestino, non è che il Trestino sia un subacquio, sia un velista, ci sono anche quelli che praticano la vela però diciamo che il Trestino meglio se la gode o pescando o praticando i bagni di mare e di sole ai topolini. E proprio questo è ormai dopo 25 anni praticamente di attività dell'area marina protetta a Trieste e di entrare in una visione un po' più ampia di mare per il golfo di Trieste. E con questa già è una panoramica un poco più vasta dove si inserisce sempre l'elemento umano medio-trestino con una visione sul carso di Trieste con il castello di Miramare però c'è sempre una qualcosa di più, non è che il mare non venga usato a Trieste è molto usato, è molto stretto, poche miglia siamo in acque transnazionali e il nostro amico pescatore qua sembra disturbato, potremmo anche farle venire fuori dalla testa un fumetto con la frase ma cosa è sto rumor? Ecco questo è il ruolo importante dell'area marina protetta di Miramare per il futuro. Quello di considerare tutto il golfo di Trieste come un grande laboratorio modello in cui lo sviluppo sostenibile si deve fondere con la conservazione della natura ormai anche parlando di sviluppo non possiamo più come dire portare via altre fette di costa con la cementificazione, parti di fondale praticamente di inquinamento dobbiamo trovare un giusto equilibrio fra natura e sviluppo ecco è la mission che il WWF, ente gestore dell'area marina vuole fare e avere come ruolo è proprio quello di proporre dei sistemi di fruizione e di sviluppo per il futuro del golfo di Trieste che siano se non compatibili con l'ambiente perlomeno che possano integrarsi con delle zonizzazioni particolari in questa fetta particolare di mare. Questo lo conoscete, è il Castelletto, è la nostra sede logistica e qua si vede bene anche sulla sinistra come il promontorio di Miramare faccia parte di un comprensorio di una interfaccia mare-costa che è proprio quello che stiamo anche cercando di portare avanti come idea cioè di unire ed è importante anche considerare quelli che sono i land use della costa cioè come e cosa arriva al mare perché quello è importante proprio nell'analisi del futuro. Quello che facciamo a Miramare è di portare il mare fuori dall'acqua così se possiamo anche usare questo termine perché non tutti sono subacquei c'è una diffidenza anche in senso generale per il mare quindi anche con le scuole il mare è un'entità molto difficile da far conoscere se pensate per esempio ad un'area protetta di un bosco per proteggere bisogna sempre portare il visitatore all'interno dell'ambiente protetto quindi è molto facile entrare in un bosco è molto facile entrare quindi negli ambienti terrestri la parte marina è un po' più difficile quindi le scuole che vengono da noi queste qua si vede anche il fondale con questi semplici battiscopi appunto dimensione mare un mondo a più dimensioni difficile da osservare e da interpretare. Sul discorso di questo termine della interpretazione i paesi anglosassoni in genere considerano come interpretation tutte quelle metodiche che portano a capire la natura anche con strumenti turistici quindi quando noi abbiamo dei centri visite dei sistemi di visite guidate dei gruppi praticamente che svolgono delle attività professionali utilizzando le risorse del mare per motivi culturali o turistici e questo viene visto come una interpretazione ambientale. Dimensione mare un ambiente in cui immergersi crea già avventura e partecipazione questo è molto importante tutte le nostre attività e come dire anche nella conservazione di specie che non hanno un appeal con l'uomo per esempio come vedrete nel pomeriggio lo squalo bianco dovete avere sempre un sistema per portare il visitatore vicino e all'interno dell'elemento che volete proteggere quindi già l'entrare in acqua il praticare lo snorkeling il seawatching come viene fatto a Miramare è già un'attività di avventura e c'è una emozione quindi l'importante che deve fare l'area marina è quella di emozionare il visitatore in qualche maniera per dargli gli elementi di conoscenza dell'ambiente marino e i motivi di protezione. ecco questi qua sono dei vecchi centri visite praticamente il centro visite il nostro castelletto è il sistema che collega proprio l'ambiente marino il mondo subacqueo con quello esterno quindi chi ha visitato il nostro centro visite avrà visto che è un sistema particolare di visita e quello è uno strumento inserito nell'ambito del comprensorio di Miramare che pensate ogni anno viene visitato da oltre 2 milioni di persone come parco di Miramare e il castello ha uno sbigliettamento di 300.000 persone quindi ecco che anche avere questi strumenti di interpretazione è molto importante questo è l'interno del nostro centro visite come vedete qua abbiamo dei bambini che stanno effettuando la loro esperienza chiaramente in termini di gioco in termini ludici e tutto il percorso interno del castelletto è stato proprio progettato per avere un'esperienza di visita simulando di essere sul fondale e con la superficie del mare sulla testa e la nostra idea è di ampliare questo tipo di interpretazione dell'ambiente come portandolo per esempio a Trieste ed aumentando i motivi di esperienza col mare quindi cosa sono i centri visite delle aree marine protette sono dei centri di esperienza attiva partecipata ovvero sott'acqua sopra l'acqua quindi centro visite in inverno quando le condizioni sono tali che non si possono frequentare e abbiamo anche delle vasche particolari tutto molto in piccolo purtroppo il castelletto sono 160 metri quadrati al seminterato del castelletto e la nostra esperienza 25 enale potrebbe essere ben ampliata in altre strutture per continuare quello che abbiamo iniziato tocca 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 è relativo a una vasca particolare che noi chiamiamo Tastank una vasca sensoriale con vari tipi di organismi all'interno stelle marine, le oloturie, i ricci con cui praticamente i ragazzi ma anche gli adulti sempre in termine di gioco vengono a contatto con questi animali che molte volte come dire non sono mai stati visti o non sono mai stati toccati oppure peggio sono visti come organismi da cacciare o da non toccare mentre all'interno di tutti i sistemi museali moderni il don't touch invece non deve essere fatto cito sempre per esempio che al museo di Londra c'è un leone ormai completamente spelacchiato che praticamente invita i bambini e i visitatori a please touch me per cui tutti vanno sulla criniera e ormai chiaramente è spelacchiato cosa si fa? si fanno delle attività educative particolari e sempre con le mani in pasta o meglio con le mani in acqua per vedere proprio quello che viene protetto per esempio nell'ambiente marino nei primi metri e centimetri d'acqua in bassa marea vedete questo termine l'edutainment e mi diverto ed imparo ed è una fusione fra education and entertainment quindi è un sistema che noi abbiamo ben sperimentato che potrebbe essere ampliato in un centro visite in spazi museali triestini ben più ampio sempre con l'intento di attrarre di divertire ma anche di educare non abbiamo questi mezzi a Trieste chiaramente ve l'ha detto prima Saul la trasparenza delle acque che dipende proprio dall'elevato contenuto di microorganismi fitoplantonici e zooplantonici che sono alla base della catena alimentare della produttività delle golfo non permette di avere questi sistemi che sono sempre dei mezzi per far vedere il fondale sott'acqua sono delle barche con il fondo trasparente con cui con trasparenza e visibilità dell'acqua sui 10-20 metri appunto tipici fondali tirenici o della Sicilia o della Sardegna quindi noi alle barche del fondo trasparente abbiamo invece il seewatching fatti strani di questi ultimi 10 anni è che praticamente anche la presenza di cetacei quindi di organismi non frequenti nel golfo di Trieste sono sempre più frequenti non è che sono frequentissimi compaiono e appunto era una festa ieri per esempio nel porticciolo di Grignano erano presenti due delfini due stenelle i cetacei sono sempre più presenti nel golfo di Trieste e questo dobbiamo come dire è un indicatore non certo della salute delle acque non è che le balene o i delfini sono presenti pericamente perché il golfo di Trieste non sia o sia inquinato dobbiamo tener conto nello sviluppo invece che faremo degli usi del golfo di Trieste anche delle presenze queste qua appunto a Pirano per esempio cioè nell'arco di 10-20 giorni è stato possibile con i pescatori portavano fuori la gente a vedere la balena che era praticamente a Pirano non solo mari ma anche paesaggio costiero ecco questo forse è lo statement il messaggio che teniamo ben presente per lo sviluppo oltre i 25 anni cioè quello di adottare uno spazio anche terrestre più ampio quello della costiera Tristina dove poter fare attività o dal mare verso terra o a terra quindi in questo caso abbiamo elaborato un edepian che permette di leggere il paesaggio della costiera dal mare ed interpretare ad ogni colore per esempio il calcare della costiera di Duino i diversi colori tonalità di verde per la pineta per la boscaglia per la quercetta e tutta una serie di altri elementi del paesaggio che devono essere conservati quindi quali sono queste strategie per il futuro quello che stiamo facendo oggi con voi è una di queste quello che appunto facciamo con gli amici che hanno organizzato la iniziativa è proprio quello di fruire per esempio del compresorio di Grignano e del campus Miramare in senso generale proponendo delle attività ricreative però che possono essere il nucleo il volano su cui comincia anche a girare una nuova fruizione di questi spazi che in bassa stagione o non in piena estate possono essere vissuti anche a scopo turistico abbiamo un'ottima collaborazione con i musei scientifici pieni di reperti e chiaramente i musei di Trieste che testimonia hanno anche l'affinità che avevano gli studi durante l'Ottocento sotto l'impero austriaco Trieste era come dire il porto non solamente dell'impero era anche il punto dove tutti gli studiosi che venivano da Praga da Vienna venivano a catturare e a preparare i loro esemplari per i musei quindi la collaborazione con il museo scientifico civico di Trieste è molto importante altra attività che stiamo svolgendo sempre in virtù di questo allargamento dei nostri rapporti quindi l'area marina vista non solamente come una conservazione fisica di un territorio marino ma anche un istituto culturale e scientifico che dialoga con tutto il territorio questa per esempio è già da tre anni che noi la risorsa acqua la trattiamo sia dal punto di vista dell'acqua dolce e dell'acqua marina salata perché? perché se prendiamo tutto l'ecosistema così del Golfo di Trieste e Carso compreso gran parte dell'acqua dolce che arriva quella carsica ci sono tutta una serie di fenomeni di polle risorgiva lungo tutta la costiera quindi aumentando e facendo come nostro anche la conservazione del ciclo dell'acqua nel Golfo di Trieste dolce e salata abbiamo aperto una mostra proprio sull'acqua potabile in collaborazione con la Cegas e questa qua era una mostra che abbiamo esposto all'attito dell'aula di commercio sempre attività non solo nel Castelletto ma anche in contatto e in collaborazione con altri enti importante è anche il ruolo che noi abbiamo con la pesca non è che come dire la figura dell'ambientalista possiamo dire che non esiste più perché ormai su certi come dire sull'utilizzo sull'iper sfruttamento di certe risorse sono tutti convinti anche i pescatori per cui è già da alcuni anni che in collaborazione con Slow Food in collaborazione praticamente con i pescatori andiamo a fare delle lezioni di consumo ittico sostenibile cioè cerchiamo di cambiare gli usi alimentari delle mamme verso i bambini e quindi anche avere un approccio diverso su quello che è il pesce povero quindi non il merluzzo congelato ma specie del Golfo di Trieste che hanno un impatto minore che non quelle che non sono a chilometro zero che magari fanno due volte il giro del mondo per arrivare alla nostra tavola quindi queste qua sono delle esperienze culinarie con i bambini che fanno queste ricette di pesce con una chef anche in pescheria noi non è che siamo contro la pesca siamo contro la pesca sbagliata quindi anche il ruolo proattivo che può avere un'area marina nelle strategie e nelle politiche di utilizzo delle risorse marine ed è questo che vi mostravo quella immagine del pescatore sul Golfo di Trieste deve essere come dire molto ampia e quindi andiamo anche con le scuole le nuove generazioni a scoprire innanzitutto e ad identificare le varie specie che arrivano nel Golfo di Trieste però dopo a parlare anche di stagionalità della pesca cosa che faremo è quello di aumentare anche i sistemi di visita per quanto riguarda il Castelletto e il Promontorio di Miramare il Promontorio di Miramare è senza dubbio un'area frequentatissima quindi andremo ad implementare con dei percorsi di visita multimediali la scoperta con delle chiave di identificazione digitale che vedete in queste slide quindi queste qua però non hanno solamente una funzione di nuova fruizione del Castelletto noi puntiamo anche a effettuare una dimostrazione un effetto volano possiamo dire sul processo di sviluppo della città per dire che anche forse lo avete sentito parlare il famoso concetto di Parco del mare può essere ripreso per creare un centro di visita per il mare di Trieste con sistemi innovativi e il Castelletto nel suo piccolo può essere una proposizione ecco questo è il Sea Watching che chiaramente anche dal punto di vista turistico subacqueo può essere ampiato una zona che noi speriamo che non vada persa come gestione è quella del Dosso di Santa Croce già si aveva si era fatto qualche ragionamento affinché sia come dire istituita una collaborazione con le subacquei per la loro fruizione questo è tutto grazie 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 a tutti grazie a tutti